Concorso di idee per decorare le panchine letterarie di Torre Orsaia. Dopo il successo delle prime due realizzate e installate nella piazza centrale del paese, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Pietro Vicino punta a coinvolgere la popolazione per la definizione delle prossime panchine che verranno acquistate. Per questo ha organizzato un concorso di idee che avrà il compito di trovare testi e decorazioni per le sedute a forma di libro che hanno fatto il giro del mondo e sono approdate anche a Torre Orsaia con la loro bellezza estetica e l'invito alla lettura in esse contenuto. Possono partecipare al concorso associazioni, scuole e singoli cittadini. Le proposte con l'illustrazione grafica e il testo da apporre sulla panchina dovranno essere inviate via mail, posto ordinaria o consegna a mano presso l'ufficio protocollo entro il 28 febbraio 2022 al comune di Torre Orsaia, complete dei dati del proponente. Chi parteciperà al concorso di idee riceverà una targa ricordo e prenderà parte alla cerimonia di inaugurazione. Ai vincitori invece la possibilità di veder realizzata la propria opera e perché no, magari vederla anche replicata in qualche altro luogo del mondo. Le due panchine già presenti a Torre Orsaia sono state realizzate da illustratori professionisti, rappresentano frasi tratte dal piccolo principe e dalle opere di Cesare Pavese. Sono il modo perfetto, ha detto il sindaco Pietro Vicino, per abbellire la città e avvicinare i cittadini di ogni età e i turisti che vanno in giro a scoprire mete alla letteratura e alla lettura. Chi parteciperà al concorso potrà anche suggerire dove eventualmente posizionare le nuove panchine letterarie. Chi parteciperà al concorso potrà anche suggerire dove vanno in giro a scoprire i cittadini di ogni età e i turisti che vanno in giro a scoprire i città.